30 anni fa Solidarnosc vince le prime elezioni libere del dopoguerra in Polonia e prende il potere, diciamo così. Ma la rivoluzione polacca di Lech Wałęsa e del suo movimento Solidarnosc era cominciata nove anni prima, a Danzica nel 1980. Era stata una rivolta contro l'oppressione del regime comunista e più in generale il tallone sovietico che gravava su tutto l'est europeo. Non era stata la prima, perché c'erano già state l'Ungheria nel 1956 e Praga nel 1968, ma già nel 1980 si intuì che quella era una rivolta diversa. C'era un papa polacco sul soglio di Pietro a Roma e c'era qualcosa che stava cambiando nel mondo. L'impero sovietico si stava incrinando per la prima volta. Quella di Wałęsa nel 1980 è la prima rivolta che non viene repressa nel sangue nello stesso modo in cui furono represse quelle di Ungheria e di Praga. Perché la storia non si poteva fermare. C'è stato poi ovviamente un colpo di coda, il colpo di stato di Jaruzelski nell'81, però alla fine un processo si era avviato. Il popolo cattolico della Polonia aveva invertito il senso di marcia della storia e nell'89, dopo la vittoria di Solidarnosc, c'è a cascata tutta una serie di avvenimenti, la caduta del muro di Berlino, poi nel 1991 cadrà anche l'Unione Sovietica. E' quindi un momento storico, simbolico di una inversione di rotta che ha segnato la fine del XX secolo.